Storico della provincia di Pelemento, adesso vedete dei ragazzini con le fasce tricolori perché sono i mini sindaci, perché hanno realizzato un carro allegorico, anzi un carretto, un minicarro Coloriamo il nostro futuro, fatto appunti da ragazzi di seconda e terza media e da alcuni ragazzi di quinta elementare guidati dalla maestra Caira Laiola Dolores Riccardi che quest'anno ha rinunciato a realizzare un carro proprio per aprire questo laboratorio per le nuove generazioni. Il carro rappresenta un arcobaleno con i colori della pace portato come bandiera da un bambino che lo estrae da una cesta di uva. È preceduto dal mini sindaco di Solopaca Noemi Armellino e da tutto il Consiglio Comunale Junior, accompagnato anche dai ragazzi che lo hanno eseguito un applauso appunto a questo minicarro, a questo carretto, ai ragazzi, queste giovani speranze speranze per il futuro che viene proprio dai mini sindaci da questo progetto bellissimo Coloriamo il nostro futuro. Adesso c'è il primo carro, bottega alle giovani speranze, questo è un carro di giovani